Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di Judy Buenoano. Iniziamo subito. Judy Welty, meglio conosciuta come Judy, nasce in Texas nel 1943. Suo padre è un lavoratore ambulante e sua madre, anche lei di nome Judy, si prende cura dei figli ancora piccoli. Sfortunatamente la donna muore di tubercolosi quando Judy ha solo due anni e suo padre non è disposto ad allevare i bambini da solo. I suoi fratelli maggiori vengono dati in adozione mentre lei e il fratellino Robert vanno a vivere con i nonni. Judy e Robert rimangono con i nonni fino al 1955 quando il padre si risposa. A questo punto vengono mandati a Roswell nel New Mexico a vivere con lui e la sua nuova moglie. Le cose peggiorano molto per Judy quando si trasferisce da suo padre. Lui e sua moglie sono offensivi nei suoi confronti e la trattano come una serva. La prendono a pugni, a schiaffi, la bruciano con le sigarette e a volte si rifiutano di darle da mangiare. Lei sopporta o almeno ci prova, lo fa per due anni, poi un giorno perde il controllo e scatta. Si scaglia contro suo padre e la matrigna prendendoli a calci e a pugni. Inoltre lancia del grasso bollente su due dei suoi fratellastri. Il padre e sua moglie chiamano la polizia e la fanno arrestare e, sebbene Judy sia ancora minorenne, viene reclusa in una prigione per adulti per due mesi. Dopo essere stata rinchiusa per 60 giorni, un giudice le annuncia che può tornare a casa, ma lei si rifiuta di andare. Sa che tra quelle mura i suoi familiari continuerebbero a trattarla male e quindi preferisce stare in un riformatorio. Qui trascorre due anni e si diploma nel 1959. Dopo il diploma, Judy torna a Roswell, ma si rifiuta di avere a che fare con la sua famiglia. Trova lavoro come assistente infermieristica, usando però un nome falso, Anna Schultz. Non è chiaro come perché abbia scelto quel nome, ma lo continua a usare anche nel marzo del 1961, quando dà alla luce il suo primo figlio, un maschio che chiama Michael, e si rifiuta di dire a chiunque chi fosse il padre del bambino. Quando Michael è ancora piccolo, Judy inizia a frequentare un ufficiale dell'Air Force di nome James Goodyear. Si sposano il 21 gennaio 1962 e Judy a quel punto smette di usare il suo pseudonimo, Anna Schultz. Rimane incinta per la seconda volta nel 1965 e dà alla luce suo figlio nel gennaio del 1966. Il pargolo si chiama James come suo padre e, poco dopo la nascita del bambino, James Senior adotta legalmente il primo figlio di Judy, Michael. Judy rimane nuovamente incinta l'anno successivo e partorisce una bambina di nome Kim. Quando Kim è ancora piccolina, la famiglia si trasferisce a Orlando e Judy vi apre un centro per l'infanzia nel 1968. James viene mandato in Vietnam nel 1970 e Judy si ritrova a gestire l'attività da sola. Il marito sta per un anno e torna a Orlando nell'estate del 1971. Dopo pochi mesi dal suo rientro negli Stati Uniti, si ammala gravemente. Viene ricoverato all'ospedale navale statunitense di Orlando, ma i medici non sono in grado di determinare quale sia il suo male. Alcuni sintomi da lui accusati sono compatibili con un virus allo stomaco. Ma James non riesce mai a stare meglio o comunque se migliora leggermente un giorno, quello dopo rincomincia a stare male. Si lamenta di forti dolori allo stomaco, intorpidimento alle mani e ai piedi, nausea e vomito. Inizia pure ad avere le allucinazioni. Una nipote ricorderà in seguito l'episodio in cui lui continuava ad aggrapparsi all'aria insistendo sul fatto che ci fossero dei conigli nel suo letto. Arriva il 16 di settembre del 1971 e James Goodyear muore. Judy sembra sconvolta per la sua morte improvvisa. Ma quando scopre che James aveva stipulato tre diverse polizze assicurative sulla vita, si sbriga a presentare istanza per tutte e tre, appena cinque giorni dopo la morte del marito. Un paio di mesi dopo la casa di Judy prende fuoco e lei ottiene 90.000 dollari grazie alla polizia assicurativa sulla casa. Venuta in possesso di parecchi soldi, prova a cambiare aria. Orlando le offre soltanto brutti ricordi, quindi si stabilisce con i figli a Pensacola. A Pensacola Judy incontra Bobby Joe Morris e va a convivere con lui nel 1972. Gli anni successivi trascorrono relativamente tranquilli per Judy. Bobby Joe si trasferisce a Trinidad in Colorado nel 1977. Judy programma di raggiungerlo ma rimane in Florida per alcuni mesi per occuparsi di alcune cose. Poco dopo che Bobby lascia lo stato, la casa di Judy prende fuoco e di nuovo la donna riscuote un compenso in virtù della polizia assicurativa stipulata. Una volta ottenuti i soldi, Judy lascia la Florida e si trasferisce con Bobby in Colorado. Judy è in Colorado da pochi mesi quando Bobby Joe si ammala gravemente. Deve essere ricoverato in ospedale. Come i medici di Orlando, che avevano curato James Goodyear, anche i dottori che assistono Bobby non sono in grado di determinare esattamente di cosa lui soffra. Oltre a una forte nausea e attacche di dissenteria, Bobby si lamenta anche di un dolore lancinante al petto, alle mani e alle gambe. Dopo aver trascorso due giorni in ospedale, Bobby si riprende abbastanza da essere dimesso. Torna a casa ma in poco tempo si ammala nuovamente. I medici eseguono tutti i tipi di test nell'inutile tentativo di diagnosticare con più precisione le sue condizioni. Per il personale dell'ospedale, Judy sembra una compagna devota che trascorre ore al capezzale di Bobby. Nessuno di loro fa caso al fatto che la donna gli porta ogni giorno un punch alla frutta. La famiglia di Bobby però inizia a nutrire dei sospetti. Sua madre dice che Judy avrebbe costretto Bobby a bere del punch avvelenato. Quando non vuole berlo volontariamente, lei gli apre la bocca e glielo fa ingurgitare in modo forzato. La sua salute continua a peggiorare fino alla sua morte, avvenuta il 21 gennaio 1978. Viene eseguita un'autopsia di routine ma l'arsenico non viene neanche cercato, quindi la sua presenza non viene rilevata. Nonostante i sospetti di sua madre, la morte di Bobby viene attribuita a un arresto cardiaco. Ancora una volta Judy beneficia di diverse polizze assicurative che aveva stipulato Bobby. Riscuote il denaro all'inizio di febbraio e solo un paio di settimane dopo la morte di Bobby. Senza nulla che la trattenga in Colorado, Judy torna a Pensacola. Il 3 maggio 1978 cambia legalmente il suo cognome in Buenoano, l'equivalente spagnolo di Goodyear, ma non spiega perché abbia preso questa decisione. Il figlio maggiore di Judy, Michael, si arruala nell'esercito nel giugno del 1979. Dopo aver completato l'addestramento di base, viene assegnato a Fort Benning in Georgia. Dato che, a qualche giorno libero, prima di dover prestare servizio, decide di fare visita a sua madre in Florida. Anche lui, però, inizia a stare male. Sebbene non si sentisse in forma, si reca in Georgia come previsto il 6 novembre del 1979. Quando raggiunge la base, è chiaro che qualcosa non va. I medici militari finalmente riconoscono i segni di un avvelenamento acuto, da arsenico. Fanno del loro meglio per invertire gli effetti, ma sfortunatamente è troppo tardi. Gli viene diagnosticata una profonda neuropatia da metalli pesanti. Michael non ha più le funzioni nervose o muscolari nelle mani e nei piedi. Trascorre più di tre mesi in cura presso il Walter Reed Hospital. Viene poi trasferito in un ospedale di Tampa per essere più vicino a casa durante la riabilitazione. È dotato di tutori per le gambe e di un dispositivo protesico sul braccio destro, ma anche con questi supporti la sua mobilità è estremamente limitata. Il 12 marzo del 1980 Michael viene dimesso dal Veterans Administration Hospital di Tampa e Judy va a prenderlo. Uno dei medici di Michael spiega a Judy che è improbabile che il ragazzone acquisti il pieno uso di braccia e gambe. Dunque le raccomanda di essere consapevole dei suoi limiti. Judy spiega al personale dell'ospedale di aver speso 40.000 dollari per rinnovare la sua casa col fine di accogliere al meglio Michael nelle sue condizioni. E Michael viene dimesso e lasciato alle sue cure. Deve continuare la riabilitazione in un ospedale di Pensacola, ma non ne ha la possibilità. Il giorno seguente Judy decide di portare tutti e tre i suoi figli a fare una battuta di pesca. La famiglia si reca al vicino East River e Kim rimane sulla riva mentre Judy, Michael e James salgono su una canoa e remano lungo il fiume. Michael dopo aver trascorso diversi mesi in un letto d'ospedale è estremamente entusiasta di passare un po' di tempo all'aperto, nonostante i suoi problemi di mobilità. La canoa prevede due posti ma Judy mette una sedia dal giardino pieghevole al centro e ordina Michael di sedersi lì. Il trio pesca per circa un'ora e finisce la deriva a circa un miglio dal punto di partenza. La spiegazione di Judy per quello che accade cambia più volte. Prima afferma che la canoa ha colpito un tronco sommerso e si è capovolta. In seguito sostiene che un serpente è salito sulla canoa in qualche modo e il panico che ne è derivato l'ha fatta ribaltare. Dopodiché racconta che la lenza di Michael si è impigliata in qualcosa e questo ha fatto ribaltare la canoa. In ogni caso il risultato finale è che Michael appesantito dalle bretelle di metallo che indossava è scomparso immediatamente sotto la superficie dell'acqua. Quando Judy riemerge secondo la sua versione vede il figlio James galleggiare a faccia in giù nell'acqua quindi si muove rapidamente per liberare le sue vie aeree e riportarlo alla coscienza. Michael invece non si vede da nessuna parte. Non è chiaro per quanto tempo Judy e James galleggiano nell'acqua prima di essere individuati da Ricky Hicks, un uomo che sta pescando nella zona. Ricky non ha visto l'incidente verificarsi ma mentre si avvicina vede la canoa capovolta che galleggia nelle vicinanze. Insieme a una borsa termica, un sacchetto di cibo e una singola ciabatta infradito. Judy dice a Ricky che un serpente era finito nella canoa e che stava cercando di tenerlo fermo con una pagaia quando la barca si è ribaltata. Quindi da un'altra versione ancora. Non sembra particolarmente turbata, un fatto che effettivamente appare strano. Infatti spiega a Ricky che uno dei suoi figli era stato trascinato sott'acqua e probabilmente era negato. Descrivendo le condizioni di Michael ha detto a Ricky che sarebbe stato inutile cercare di salvarlo. La donna è preoccupata per James che sostiene di aver perso i sensi quando la canoa si era capovolta e di non avere memoria di quello che era successo. Ricky va a chiedere aiuto ma prima Judy gli chiede se può offrirle una delle sue birre. Ricky gliene offre una e la osserva mentre la beve con calma. Se Judy è preoccupata o addolorata per Michael riesce a nasconderlo molto bene. I soccorritori trovano il corpo di Michael a circa un quarto di miglio di distanza da dove erano stati salvati James e Judy. Judy insiste sul fatto che Michael indossasse un giubbotto di salvataggio ma quando viene trovato il ragazzo non lo ha addosso. Il medico di Michael è sbalordito quando scopre cos'è successo. Judy era ben consapevole delle condizioni di Michael e sapeva che non sarebbe stato in grado di nuotare, lanciare una lenza e nemmeno tenere una canna da pesca. Non poteva credere che avesse messo Michael in quella condizione. Anche altri che conoscevano Judy a questo punto iniziano a parlare di lei alle sue spalle. Michael aveva diverse polizze assicurative sulla vita, alcune risalenti a quando era bambino, più una che aveva ottenuto attraverso l'esercito. Judy ovviamente è l'unica beneficiaria di tutte quelle assicurazioni e consegue quasi 100.000 dollari quando Michael viene a mancare. La donna usa la maggior parte dei soldi per aprire un negozio di parrucchiere a Pensacola. Inoltre acquista un'auto sportiva, più precisamente una Corvette e alcuni gioielli costosi per sé. Nel febbraio del 1981 Judy inizia a frequentare un uomo di nome John Gentry. John è un uomo di successo e Judy è attratta dai suoi soldi. Per impressionare John, Judy gli dice che ha un dottorato in biochimica e psicologia e afferma anche di essere stata a capo dell'assistenza infermieristica di un ospedale della zona. John crede a tutto ciò che lei gli dice. Senza mai smettere di chiedersi perché una donna così qualificata lavori in un salone di bellezza. Durante il periodo in cui si frequentavano, riempie Judy di regali sontuosi e la porta a fare vacanze di lusso. Judy va a convivere con John ad agosto dopo una frequentazione di circa sei mesi. Lo convince che sarebbe stata una buona idea per entrambi acquistare un'assicurazione sulla vita l'uno in riferimento all'altro. John accetta e acquista una pollizza da 50.000 dollari. Nell'ottobre del 1982 Judy aumenta l'importo della pollizza a 500.000 dollari senza che John ne sia a conoscenza. A dicembre John si ammala così gravemente che viene ricoverato in ospedale per 12 giorni. I medici lottano con tutte le forze per individuare il problema di John. Ma quest'ultimo qualche idea ce l'ha. Judy gli somministra delle vitamine che reputa necessarie per la sua salute. Credendola a un'infermiera anche se quella raccontata è una bugia, John prende le capsule senza fare domande. Però inizia a provare nausee e vertigini subito dopo l'assunzione delle vitamine. Eppure quando ne parla con Judy lei gli dice di raddoppiare la dose. Si sente meglio una volta ricoverato in ospedale da quando non assume più le vitamine. Sebbene sia leggermente preoccupato da a Judy il beneficio del dubbio e non fa alcuna menzione dei suoi sospetti. Non appena viene dimesso dall'ospedale Judy riprende a somministrargli le vitamine. John ne assume due il primo giorno in cui è a casa e sperimenta lo stesso tipo di vertigini e nausea che ha accusato in precedenza. Il giorno successivo si rifiuta di assumere le vitamine e si sente molto meglio. John quindi sta per buttare via le capsule che Judy gli consegna quella mattina ma qualcosa lo ferma. Decide di nasconderle in una tasca con cerniera della sua valigetta. John non ha più problemi di salute per i successivi sei mesi e a giugno si è quasi dimenticato dell'incidente vitaminico. Il 25 giugno 1983 Judy organizza una cena al Driftwood Restaurant nel centro di Pensacola poiché dice a John di essere incinta di suo figlio. John e Judy arrivano al ristorante in auto separate dato che John era lavoro. Aveva deciso anche di andare a prendere sua madre dato che avrebbe dovuto partecipare pure lei alla festa ma quel giorno la donna non si sente bene e rimane a casa. Quando John giunge al ristorante segue le indicazioni di Judy così da parcheggiare in un punto specifico. Mentre la festa sta avvolgendo al termine Judy chiede a John di andare a prendere una bottiglia di champagne in modo che possano continuare a festeggiare in privato una volta tornati a casa. Ancora entusiasta della notizia che sarebbe diventato padre John accetta di correre verso il negozio di liquori. Non appena sale in macchina e la avvia però l'auto esplode. Miracolosamente John non muore nell'esplosione ma perde parti di rene, fegato, stomaco e intestino. Judy esce di corsa dal ristorante non appena sente l'esplosione e impallidisce nel vedere che John sta ancora respirando. Una folla si raduna rapidamente attorno all'uomo e Judy allora entra in scena, gli cula la testa e gli ripete più volte che lo ama. I paramedici sopraggiungono e preparano John per il viaggio in ospedale. Trascorre il mese successivo in terapia intensiva, poi altri due mesi in un reparto dimesso. Nonostante le sue orribili ferite sa di essere fortunato a essere vivo ed è grato al destino che sua madre non fosse stata in macchina con lui quella sera. Gli investigatori non impiegano molto a individuare un sospettato nel caso dell'autobomba. I detective vengono inviati in ospedale all'inizio del recupero di John per ottenere una sua dichiarazione. Sono consapevoli del fatto che sia gravemente ferito ma vogliono assicurarsi di intervistarlo, temendo che le sue condizioni di salute possano peggiorare. John racconta agli investigatori di essere stato in ospedale l'inverno precedente a causa di una malattia non diagnosticata. Aggiunge che crede che le capsule vitaminiche che Judy gli aveva dato fossero in qualche modo nocive. Gli investigatori sono lieti di apprendere che John aveva conservato due delle capsule. Infatti le inviano direttamente a un laboratorio dell'FBI per i test. Sospettano che Judy possa aver avvelenato John e l'analisi delle capsule lo conferma. Contengono paraformaldeide. Quando gli investigatori iniziano a intervistare gli amici e i colleghi di Judy apprendono che nel periodo in cui Judy stava somministrando le vitamine avvelenate a John aveva detto a diverse persone che al compagno era stata diagnosticata una malattia terminale. Aveva anche detto ad alcuni dei suoi colleghi che lei e i suoi due figli avrebbero fatto una crociera intorno al mondo. Gli investigatori apprendono che Judy effettivamente aveva prenotato la vacanza ma non aveva acquistato un biglietto per John. Questo vuol dire che era convinta che entro la data della partenza sarebbe già morto. Mentre gli investigatori sondano più a fondo il passato di Judy, John apprende che gran parte di ciò che lei gli aveva raccontato è falso. Non aveva titoli di studi avanzati e non era stata a capo di un dipartimento infermieristico. Era stata un'infermiera diplomata a un certo punto ma non era mai stata un'infermiera professionale registrata e certamente non era mai stata in una posizione di autorità sugli altri. Cosa forse ancora più scioccante per John, Judy aveva mentito sull'essere incinta di suo figlio. Infatti era diventata sterile dopo aver subito una legatura delle tube almeno un decennio prima. Gli investigatori sanno che Judy aveva cercato di avvelenare John ma questo da solo non è sufficiente per accusarla dell'attentato nell'auto. Con l'aiuto delle autorità federali sono in grado di risalire alla dinamita utilizzata e interrogano uno degli amici di Judy in Alabama. Nel tentativo di sottrarsi a qualsiasi accusa l'amico insiste sul fatto che la dinamite gli è stata rubata dal retro del suo camion pochi giorni prima che l'auto di John esplodesse. Consultando i tabulati telefonici tuttavia gli investigatori stabiliscono che Judy e questo amico erano stati in contatto costante fino al giorno dell'esplosione. Certi che Judy sia l'unica responsabile i poliziotti ottengono un mandato di perquisizione per la sua casa. Nella sua camera da letto trovano filo e nastro adesivo identici a quelli usati nell'autobomba. Trovano anche della robina da fumare e un fucile a canne mozze nella stanza di suo figlio James. Judy è in grado di pagare la cauzione per l'accusa di tentato omicidio ma non resterà una donna libera a lungo. Mentre gli investigatori procedono con gli interrogatori apprendono di come suo figlio, il suo compagno e il suo primo marito fossero morti tutti improvvisamente. Preoccupati di avere a che fare con una possibile serial, riesaminano la morte di Bobby Joe Morris, James Goodyear e Michael Buenoano. L'11 gennaio 1984 Judy viene accusata dell'omicidio di primo grado di Michael e viene anche accusata di furto aggravato in relazione ai pagamenti dell'assicurazione sulla vita che aveva riscosso. Judy viene condotta in prigione dove simula prontamente un attacco epilettico quando si rende conto di non essere in grado di salvarsi da queste accuse. Viene portata in ospedale per accertamenti ma rimandata in prigione la mattina seguente. Il cerchio si sta chiudendo intorno alla donna e gli inquirenti non hanno ancora smesso di indagare. L'11 febbraio 1984 il corpo di Bobby Joe viene riesumato e viene effettuata un'autopsia per rintracciare la presenza del velino nel suo corpo. Il mese successivo anche il corpo di James Goodyear viene riesumato. I test evidenziano che entrambi gli uomini sono morti per avvelenamento da arsenico. Il 22 marzo 1984 Judy viene processata per la morte di suo figlio Michael. I testimoni sostengono che Judy non era mai stata una mamma amorevole con Michael, lo trattava in modo diverso dagli altri suoi due figli. Constance Lang che aveva fatto spesso da babysitter ai figli di Judy quando erano piccoli dice alla giuria che Judy si vergognava di Michael e non gli avrebbe permesso di rimanere in casa se ci fossero stati dei visitatori. A differenza dei suoi due figli più piccoli Michael era nato fuori dal matrimonio. Ha anche faticato per frequentare la scuola, aveva problemi emotivi, era socialmente a disagio e sembrava temere tutto. Questi erano segni di debolezza agli occhi di Judy e lei non voleva avere niente a che fare con Michael. Il pubblico ministero è fermamente convinto che l'annegamento di Michael non fosse stato accidentale. Sottolinea che la canoa si era copovolta in uno dei pochi punti più calmi del fiume. Judy dunque dopo essersi accertata dell'assenza di testimoni aveva scaricato Michael fuori dalla canoa. Ricky Hicks che quel giorno aveva trovato Judy e James nel fiume testimonia di averli traghettati sulla riva dove si sono ricongiunti alla tredicenne Kim. La ragazza non sembrava sorpresa del fatto che solo uno dei suoi fratelli fosse tornato a riva. Non si era nemmeno degnata di chiedere cosa fosse successo a Michael. Era come se sapesse già dal principio che Michael non sarebbe tornato. La giuria non impiega molto a concordare il verdetto. Judy viene condannata all'ergastolo più 15 anni per frode assicurativa. Poco dopo aver ricevuto la condanna all'ergastolo la donna si ritrova di nuovo sotto processo questa volta per il tentato omicidio di John Gentry. Anche suo figlio James viene accusato di tentato omicidio e il suo processo si svolge poco prima di quello di Judy. L'accusa afferma che James è la persona responsabile di aver posizionato la bomba all'interno dell'auto di John ma siccome mancano le prove dirette a sostegno dell'affermazione la giuria lo assolve. Judy invece non è così fortunata. Viene dichiarata colpevole e condannata a ulteriori 12 anni di carcere. Il 22 ottobre 1985 Judy viene processata per la morte del suo primo marito. Durante il processo Judy nega qualsiasi illecito. Non può però contestare il fatto che James Senior avesse livelli letali di arsenico nel corpo ma afferma di non sapere da dove provenisse la sostanza in questione. Durante la testimonianza Judy vacilla tra il pianto e il fare osservazioni arroganti o condiscendenti. Insiste sul fatto che il suo arresto è il risultato di una caccia alle streghe. Afferma anche di non aver mai cercato di avvelenare John Gentry. Dice alla giuria che se gli avesse davvero somministrato delle vitamine avvelenate lo avrebbe fatto involontariamente e non con intenzionalità. La sua ex migliore amica Constance Lang contesta quest'ultima affermazione di Judy. Testimonia dicendo che Judy le aveva detto che avrebbero potuto porre fine ai loro matrimoni infelici mettendo l'arsenico nel cibo dei loro mariti. A quel tempo Constance aveva scrollato le spalle prendendo l'affermazione di Judy per scherzo. Sebbene all'epoca vivesse un matrimonio infelice Constance aveva risolto il problema ottenendo il divorzio. Il marito di Judy era morto poco dopo. Il pubblico ministero è autorizzato a presentare le prove relative alle altre vittime di Judy e alla quantità di denaro che la donna ha ottenuto per ogni morte. Judy ammette di aver ricevuto un rimborso assicurativo in ogni caso ma nega con vemenza di aver ucciso una qualsiasi delle vittime. La giuria non le crede. Dopo dieci ore di deliberazioni Judy viene dichiarata colpevole di omicidio di primo grado. Quando si passa alla detenzione della pena i pubblici ministeri annunciano che avrebbero richiesto la pena di morte. L'udienza di condanna dura due giorni. La giuria come previsto raccomanda che Judy sia condannata a morte ma il suo destino è nelle mani del giudice Emerson Thompson. Il giudice può anche essere contrario alla raccomandazione della giuria e studia il caso tre ore prima di annunciare la sua decisione. Judy fa un ultimo tentativo disperato di salvarsi la vita dicendo al giudice che non ha ucciso nessuno e supplicandolo di risparmiarla. Il 26 novembre del 1985 condanna Judy a morire sulla sedia elettrica. I pubblici ministeri in Colorado sono pronti a processare Judy per l'omicidio di Bobby Joe Morris ma decidono di non farlo quando scoprono che Judy è stata condannata alla pena di morte in Florida. Non esiste una prescrizione per l'omicidio. Se Judy fosse stata in grado di appellarsi con successo in Florida lo stato del Colorado l'avrebbe processata per l'omicidio di Bobby. Anche senza un processo la famiglia di Bobby crede che Judy sia la persona responsabile della sua morte e riesce finalmente a provare un minimo di sollievo sapendo che lei non sarà mai più una donna libera, pena di morte o meno. Judy sperimenta la vita monotona e angosciante del braccio della morte ma continua a insistere sul fatto di essere innocente di tutti i crimini. Nonostante sia stata condannata a morte è fiduciosa del fatto che non affronterà mai l'esecuzione. La sua fiducia in effetti non è del tutto assurda. Lo stato della Florida non giustiziava una donna da più di 150 anni. Quando viene avviato per la prima volta il processo di appello Judy è ottimista, spera che la sua condanna a morte venga annullata. Continua a sostenere di essere completamente innocente che la giuria in ciascuno dei tre processi precedenti era stata fuorviata dalle menzogne del pubblico ministero. Judy ritiene di essere stata vittima di diffamazione perché il pubblico ministero l'aveva dipinta come una vedova nera e un mostrovile. Passano gli anni ma ogni tribunale che esamina il caso giunge alla stessa conclusione. Nel 1998 Judy esaurisce la possibilità di ottenere altri processi di appello. A parte una concessione di clemenza, nulla si frappone tra lei e la Camera delle esecuzioni. La data della sua esecuzione è fissata per il 30 marzo e sebbene questa sia la terza volta che il governatore firma la sua condanna a morte, sembra intuire che quella sarà l'ultima. Judy dice a un giornalista che è stanca di combattere, è stanca dell'ergastolo, anche se afferma ancora di essere innocente e di non voler morire. L'esecuzione di febbraio del 1998 di Carla Faye Tucker in Texas aveva scosso Judy e i suoi figli. Carla era stata condannata a morte per un duplice omicidio in concorso con altri nel 1984. Quindi tale notizia è un campanello d'allarme per Judy poiché si rende conto che il suo essere una donna non sarà sufficiente per salvarla dalla sedia elettrica. Come Carla, anche Judy afferma di essere diventata una cristiana rinata mentre è in prigione, di aver studiato meticolosamente la Bibbia. Il caso di Judy attira solo una piccola parte dell'attenzione che ha suscitato il caso di Carla, probabilmente perché Judy si è rifiutata di ammettere ogni colpa e non ha avuto rimorsi per ciò che ha fatto. La figlia di Judy, Kim, ha sempre insistito sul fatto che sua madre fosse innocente e che dunque non meritava di morire. Come Judy, manteneva la speranza che la sua condanna a morte venisse annullata, ma adesso sa che non è possibile. Dopo essersi rassegnata al fatto che lo stato della Florida giustizierà sua madre, inizia ad attaccare il metodo di esecuzione e non l'esecuzione stessa. Rivolge un appassionato appello ai legislatori statali per consentire a sua madre di morire per mezzo di un'iniezione letale invece che sulla sedia elettrica. Implorando i legislatori di cambiare il metodo di esecuzione di Judy, Kim cita il caso di Pedro Medina. Era stato giustiziato sulla sede elettrica della Florida l'anno precedente e durante l'esecuzione la maschera che gli copriva il viso aveva preso fuoco. Le fiamme lunghe circa 12 pollici avevano continuato a bruciare per circa 10 secondi, riempendo la camera dell'esecuzione di fumo e odore di carne bruciata. Non è chiaro se Medina fosse ancora vivo quando le fiamme avevano iniziato a bruciare, ma il governatore della Florida aveva annunciato che lo stato avrebbe esaminato metodi di esecuzione più umani. Due settimane prima della data della sua esecuzione, Judy accetta di essere intervistata dalla giornalista televisiva Sue Strang. Le due si conoscono da prima che Judy venisse incarcerata. Sue, infatti, era una cliente abituale del salone di bellezza di Judy a Pensacola. La donna rivela a Sue che è stanca di lottare per la sua vita ed è pronta a tornare a casa da Gesù. Nonostante ciò, lei e i suoi avvocati stanno ancora attivamente cercando un modo per ritardare l'esecuzione. Judy, inoltre, continua a negare di aver ucciso qualcuno. L'esecuzione di Judy avviene il 30 marzo 1998. La donna trascorre la notte che la precede con i suoi due figli e un cugino, pregando e incontrando il suo consigliere spirituale. Insiste sul fatto che non ha paura di morire, ma si sente in colpa per aver lasciato i suoi figli senza una madre. Intorno alle quattro, i funzionari della prigione portano a Judy l'ultimo pasto che ha richiesto. Fragole fresche, broccoli, asparagi al vapore e tè caldo. Poi viene condotta nella camera delle esecuzioni alle 7. Sembra fragile e terrorizzata. La sua testa è completamente rasata e ricoperta di gel per condurre meglio l'elettricità. E la sua pelle è molto pallida. Tiene gli occhi chiusi mentre è legata alla sedia e comunica alle guardie che non vuole fare un'ultima dichiarazione. In pochi minuti è finita. Non c'è fuoco, solo una piccola quantità di fumo dell'elettrodo attaccato a una delle sue gambe. Viene dichiarata morta alle 7.13. Detto questo io ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso. Spero che questo video possa essere stato interessante. Noi come al solito ci becchiamo nei commenti. Conoscevate questa serial? Fatemi sapere. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare verdure che continuano a far bene. Ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!